Sembra una maledizione quella della velocità che continua a imperversare in una terra la Romagna che ne ha fatto un vanto riconosciuto in tutto il mondo. Per fortuna questa volta le conseguenze non sono gravi. Solo tanta paura infatti per Valentino Rossi, rimasto vittima di un incidente ieri pomeriggio durante un allenamento in motocross nella pista di Cavallare in provincia di Pesaro. Nulla di grave per il pilota di Tavuglia che avrebbe rimediato solo un trauma toracico addominale ma nessun trauma cranico né frattura come si era appresi inizialmente. Tornato a casa avrebbe deciso autonomamente di recarsi in auto all'ospedale infermi di Rimini. I dottori hanno quindi deciso di tenerli in osservazione a scopo precauzionale nel reparto di rianimazione ma solo per motivi di privacy e riservatezza. Il bollettino medico parla di una prima nota è trascorsa tranquillamente per il pilota Yamaha accanto a lui. Sono presenti la mamma, il fratello e l'inseparabile amico Uccio. In giornata sono previsti ulteriori controlli ancora da capire come sia avvenuto l'incidente in una pista che il dottore conosce molto bene perché si allena spesso su quel circuito quando è a Tavuglia anche di notte e da solo.